La solità lei di solito è molto precisa nell'affercare la sinistra quando ha detto le istituzioni, a che istituzioni si riferiranno? Ma già me l'ha chiesto lui, mi riferivo ai parlamentari, a diversi parlamentari di sinistra, istituzioni sono, come li devo chiamare? Mostri, non so, come magari loro mi chiamerebbero a me, ma sono istituzioni signore, ma non so se gli vogliamo togliere pure questo status, no? No, ce l'avevo con loro, cioè parlavo di un discorso, guarda io appunto quando ho da attaccare qualcuno attacco qualcuno, nel senso se ho da dire qualcosa, indipendentemente da chi è, la dico, queste ricostruzioni che si fanno, ripeto, vedo, insisto, vedo un tentativo di costruire uno scontro artefatto con il Presidente della Repubblica che non esiste. Io ho un ottimo rapporto con il Presidente della Repubblica con il quale mi confronto molto spesso su tutte le grandi questioni del governo di questa nazione, trovo, diciamo, molto sbagliato e anche una forte mancanza di rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica e quindi dovete attentare di utilizzarlo per un interesse di partito che la sinistra ha, non potendo dire la ragione per la quale non vuole che i cittadini possano scegliere liberamente a chi farsi rappresentare, si cerca di creare lo scontro con il Capo dello Stato per dire, vedete che la Meloni vuole togliere i poteri al Capo dello Stato, ma chi è vagamente, diciamo, come posso dire, serio, ok, sa benissimo che io ho fatto una riforma costituzionale che volutamente non tocca ai poteri del Capo dello Stato, volutamente non tocca ai poteri, proprio perché so che il Presidente Mattarella è una figura di garanzia e quindi dispiace, ma non si potrà utilizzare l'autorevolezza del Capo dello Stato per tentare di fare la campagna elettorale contro il Premierato e bisognerà dire la verità, non vogliamo che gli italiani possano scegliere il Capo del Governo perché i governi vogliamo fare noi nel Palazzo e vogliamo governare quando perdiamo le elezioni e poi vediamo come entrà il referendum, ma questa è la campagna elettorale che si deve fare. Se lei mi dice quali, mi può dire quali? Mi può dire lei quali sono i poteri del Presidente della Repubblica e vengono toccati? Ma viene toccato, essendo che il Presidente del Consiglio ha un'elezione diretta? Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica che vengono toccati? Perché io lo so, me lo dice lei? Scusi, però allora non c'è questa, perché non ci sono dei poteri del Presidente della Repubblica che vengono toccati. Addirittura quando il Presidente della Repubblica ha fatto le dichiarazioni che ha fatto ultimamente è stato detto se ci fosse la riforma del Premierato non avrebbe potuto dirlo. Mi può dire qual è l'articolo della Costituzione che impedisce? Il Presidente delegato della scelta del Presidente Nord Scusa, allora, ho capito, va bene, ok, allora il potere di sciogliere le camere che però lei sa bene il Presidente della Repubblica sciogliere le camere quando non ci sono più le condizioni per andare avanti, giusto? Presidente della Repubblica o la nomina del Primo Ministro ma il Presidente della Repubblica quando nomina il Primo Ministro chi nomina tendenzialmente? Chi ha vinto le elezioni, chi ha preso più voti? Quindi lei capisce che, insomma, diciamo, dopo le consultazioni tendenzialmente il Presidente della Repubblica perché di questo stiamo parlando, quindi di che cosa stiamo parlando? Tutti i poteri che il Presidente della Repubblica ha di, appunto, di, diciamo, indirizzare, no? Di difendere la Costituzione, indirizzare la Repubblica, di fare anche le valutazioni che fa come quelle che ha fatto ulteriormente, sono tutti poteri che sono assolutamente fermi, mutati per il Presidente della Repubblica, questa è la verità se io avessi voluto toccare i poteri del Presidente della Repubblica banalmente lo avrei fatto, ma non l'ho voluto fare, perché? Perché so che il Presidente della Repubblica è un'istituzione da noi Presidente Mattarella unificante e quindi non credo che vada toccata è un tema anche di, no? Cioè di mantenere un bilanciamento tra i poteri quindi è una costruzione artefatta Grazie a tutti Da tutti, mo sono diventati tutti addirittura, ammazza, ma lei li conosce bene perché a me non pareva che fossero tutti, su, la prego Va bene, allora, ho capito il gioco, il gioco a me è chiarissimo il gioco a me è chiarissimo, lo voglio spiegare ai cittadini si sta cercando di mettere in piedi uno scontro col Presidente della Repubblica perché la sinistra non sa come spiegare che non vuole che i cittadini scelgano di farsi rappresentare e quindi cercano di schermarsi dietro il Presidente della Repubblica non mi pare corretto nei confronti del Presidente della Repubblica al quale rinnovo la mia totale stima e anche solidarietà per questi tentativi di utilizzarlo Grazie a tutti Grazie, buona serata